Il presidente della provincia di Pescara, Antonio Zaffiri, si dice ottimista sulla riapertura delle scuole superiori il 24 settembre, nonostante l'impegno per trasporto, distanziamento, aule, banchi, laboratori, per garantire la sicurezza di tutti e rispettare le norme anti-covid. Sono 24 i plessi scolastici tra Pescara e provincia. C'è stata una corsa contro il tempo, ha detto Zaffiri, per eseguire i lavori e i dili necessari grazie ai fondi ministeriali. Diciamo che abbiamo fatto tutto il possibile finora. Se siamo pronti, a breve, fra qualche giorno sapremo, per quanto riguarda il trasporto, per quanto riguarda gli spazi, i laboratori, i bar all'interno di alcuni plessi scolastici e soprattutto gli spazi di distanziamento per i ragazzi. Però è in evoluzione, ogni giorno è in evoluzione. Diciamo che il 90% delle cose che dovevamo fare sono state fatte. Le opere e i piccoli lavori edili sono stati realizzati. In questa settimana concludono tutti i lavori e poi vedremo. Penso di sì che il 99% si riaprirà nella scuola. È fiducioso o c'è qualche sassolino dalla scarpa che si vuole togliere? No, sassolini non me ne devo togliere dalla scarpa, ma il problema è che noi non l'abbiamo potuto programmare. Si vive la giornata. Ogni giorno esce una novità, ogni giorno cambiano le direttive. Adesso stiamo puntando al 100% della frequenza. Ci saranno sicuramente alcune scuole che dovranno adottare la didattica mista, cioè alcuni ragazzi andranno a scuola in presenza, alcuni altri no e poi a rotazione frequenteranno tutti la scuola. Inizialmente si erano creati dei problemi per tre scuole in particolare. Quali? Il Classico, il Liceo Classico, il Liceo Galilei e il Liceo Da Vinci. Sono le tre scuole che comunque ogni anno crescono di numero. Lei ha avuto anche un incontro con i dirigenti scolastici. Diciamo che il Ministero ha messo a disposizione dei fondi per affittare delle strutture. A questo punto però anche gli altri dirigenti scolastici dicono perché a noi no? Il Ministero ha messo dei fondi a disposizione per degli affitti o acquisto di tensostrutture o acquisti di container ed è emerso ciò che prima non era emerso, cioè nel senso che adesso a tutte le scuole necessitano delle classi in più e questo un po' ci ha messo in difficoltà. Il Presidente vuole fare un appello agli studenti. Soprattutto far capire ai ragazzi che è fondamentale e importante. Loro non sono immuni da questa pandemia e da questo virus, tant'è che si è abbassata la media. E sul futuro delle scuole? Presidente, da 1 a 10 quanto è fiducioso? 9 e mezzo.